Diamo il microfono alla mamma del reddito allora Non si è Catalfo, è la mamma del reddito di cittadinanza, te l'onore di aprire Che devo fare? Devo parlare del reddito? Dai, è un'emozione però Allora, oggi siamo qui perché il reddito di cittadinanza è il primo punto del nostro programma Perché è un'emergenza e un'esigenza di tutti i cittadini italiani Perché 8 milioni e mezzo di persone in Italia sono in povertà Perché 1 milione e 250 mila bambini in Italia non hanno il cibo E vivono in una condizione grave di deprivazione materiale Perché questa è l'unica misura che contrasta la povertà in Italia E perché deve essere immediatamente messa in atto Sono emozionata, scusate Non esistono altre misure Tutti gli stati europei l'hanno messa in atto Ed ecco Beppe Fammi andare Grazie mille No, aspetta Devo venire avanti I camper si devono muovere Sulla stampa Sicuro Basta andare davanti Oh ragazzi Oh calma Andiamo giù Si va giù di là Andiamo giù 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 no vabbè così facciamo male però la gente si fa male così non è vero ho fatto una pinta io più avanti devi scendere dalla rurosa è sceso sta là è vero eh buongiorno buongiorno come va? e che fai? ciao 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 sono ciao ciao Grazie. Ragazzi, ma siamo in diretta? Ma cavolo, ragazzi, così controviede. Ragazzi, siamo tutti qui, è bellissimo, re di cittadinanza per tutti, soprattutto per chi ne ha bisogno, di fatto è quello. E la seconda volta che facciamo questa marcia, purtroppo il governo fa orecchie da mercante, speriamo che appunto nelle prossime elezioni ci saremo noi, così potremo veramente cambiare le cose. Non è solo per i più poveri perché si rilancia realmente l'economia, che di fatto è solamente nei consumi, quindi l'unico paese insieme alla Grecia che non è re di cittadinanza. Questa è una cosa folle, basta guardare questi due paesi e basta guardare gli altri paesi d'Europa per capire che questa cosa è urgente e va fatta. Non queste cose abbastanza stupide che tendono a copiare il reddito di inclusione, tutte queste cose qui. Serve un reddito di cittadinanza vero che non siano presi in giro, che non siano spot elettorale. I soldi ci sono, mettiamoli. Reddito, reddito di cittadinanza. Ciao a tutti ragazzi, la questione è molto semplice, ci sono 17 milioni di persone in Italia che hanno problemi di disoccupazione e quindi non hanno metodi e mezzi per sostentarsi. In più ci sono numerosi studi in giro per il mondo dal 2013 a oggi che dimostrano che la continua innovazione, il continuo sviluppo tecnologico porta a una robotizzazione dei processi industriali e quindi fa cambiare completamente il mercato del lavoro che pian pianino toglie gli uomini dai processi produttivi e quindi li rende liberi a fare altre attività, anzi, soprattutto a godersi la vita. Ed è per questo motivo che bisogna cambiare completamente il paradigma economico su cui si basa la nostra vita. Non più legata esclusivamente al lavoro per avere un reddito, ma un reddito con cui si possa iniziare a vivere veramente e poter in qualche modo affrontare questa sfida anche del mercato del lavoro che continua a cambiare e continua a perdere posti di lavoro così come li abbiamo finora concepiti. Quindi la cosa importante è proprio questa, un reddito che dia sostentamento alle persone che oggi subiscono la crisi, che oggi hanno subito la disoccupazione e la crisi ma anche un reddito di cittadinanza che serve ad affrontare le sfide che pian pianino il mondo per la tecnologia, per l'innovazione e per lo sviluppo tecnologico ci porta ad avere. Quindi è una speranza, è una speranza per il futuro, è una speranza per il nostro popolo. Tanti altri popoli in giro per l'Italia, in giro per l'Europa e per il mondo la stanno applicando, quindi facciamolo anche noi al più presto. Ciao a tutti, a chi ci segue, stiamo marciando verso Assisi, con calma, siamo qui con tante persone per fare pressione, per tornare a parlare del reddito di cittadinanza. Una misura che sicuramente ci aiuterà a risolvere un'emergenza sociale, perché ci sono molte persone che non arrivano a fine del mese, ma questa è anche una manovra economica che serve innanzitutto a ridistribuire ricchezza e poi può rilanciare i consumi, non come l'80 euro di Renzi, in modo tale che anche il mercato possa ripartire e così anche il lavoro. Speriamo di fare pressione tramite tutte queste persone al governo, perché in Senato, in Commissione, se ne possa continuare a discutere. Perché sono due anni dalla prima marcia che il governo farecchi da mercanti perché non vuole risolvere un'emergenza o perché non vuole far ripartire questo Paese, dando i soldi alle banche, ha dimostrato che non vuole aiutare i cittadini, ma vuole solo aiutare la finanza. Aiutateci a dire al governo di cambiare le cose e seguiteci. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Non superiamo il campo. Grazie. 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 Molto veloce. Grazie. Veloce? Bene? Ma c'è che fa. Ciao ragazzi. Ciao. Piove, piove, ma noi non ci fermiamo. Continuiamo dritti. Abbiamo un ombrello di fortuna, ci rinfresca un po' questa pioggia, poi siamo tutti allergici tra l'altro e quindi anche quest'anno stiamo marciando per vedere cittadinanza. Comunque siamo tantissimi anche quest'anno, tantissimi, è veramente impressionante, sapevamo che le previsioni non ci erano favorevoli però... Eccoci qua, siamo sotto la pioggia ma noi continuiamo imperterriti a camminare perché è un tema che noi portiamo avanti, cui crediamo e cui continuiamo a spingere in ogni occasione. Questo è un evento, se non altro, per continuare a farne parlare, a farlo conoscere a tutta l'opinione pubblica perché spesso anche i giornali, i telegiornali parlano di questo tema ma semplicemente per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle, chiederne continuamente le coperture ma mai come tema che dovrebbe essere un punto programmatico importante per un governo futuro e quindi con una visione a lungo termine. Quindi noi siamo qua anche per questo e siamo qua con tutti i nostri colleghi, con me ci sono Davide Anesci, Nicola Bianchi, Laura Castelli e speriamo che insomma questo sia un primo evento diciamo che poi ci porterà in futuro tra pochi mesi a poterlo applicare veramente, passare veramente da quella che è una proposta depositata in Parlamento ad attuarla, ad approvarla perché ce n'è tantissimo bisogno in questo Paese. Speriamo sia l'ultima marcia senza il reddito di cittadinanza applicato e speriamo che la prossima volta che marceremo sarà perché bisognerà festeggiare l'applicazione del reddito di cittadinanza. Come diceva Simone ci insultano sempre dicendo che le coperture non ci sono, addirittura Renzi in TV disse che noi straparliamo di cifre in realtà anche lo stesso governo ce le ha certificate al Senato mesi fa e forse non se ne è accorto, non lo sanno neanche loro. Questo vuol dire che questa proposta non è per nulla una proposta fatta a caso. Peraltro non lo diciamo mai, spesso ce lo scordiamo, ma noi abbiamo messo nella legge che se si scopre che qualcuno ha preso il reddito di cittadinanza in maniera inopportuna quindi non gli aspettava c'è da sei anni di reclusione e poi ti tolgono completamente i soldi che hai preso. Per chi dice che il reddito di cittadinanza in realtà è una misura palliativa che poi porterà tutti a stare seduti sul divano non è vero, tant'è che appunto abbiamo pensato anche a una forma penale nel caso in cui ci fosse un'appropriazione in debita di un diritto come quello del reddito di cittadinanza. Sì, volevo aggiungere un'altra cosa perché nelle nostre coperture di questo reddito di cittadinanza c'è una parte di risorse che va finalmente a riformare i centri per l'impiego e per le politiche attive. Questo è un discorso che io rimarco perché venendo ovviamente da una regione del sud che è la Calabria l'attacco che spesso fanno al Movimento 5 Stelle è che questa può essere una misura assistenziale comunque che incentiverebbe a non lavorare e a non cercare lavoro. In realtà è stato pensato al contrario proprio per questo, per far sì che il reddito di cittadinanza sia una misura di sostegno al reddito finalizzata a reinserire nel mondo del lavoro i cittadini che momentaneamente sono in difficoltà. Quindi anche la cifra che è stata studiata dai nostri colleghi che nello specifico si occupano proprio di bilancio, di finanze, come per esempio Laura e questo, tra l'altro riferito anche a uno studio dell'Istat, la soglia di povertà oggi è a 780 euro. Non abbiamo fatto altro che trovare le coperture adeguate affinché i milioni di italiani che oggi sono in stato di povertà ne possano soffrire nel tempo che serve per far rientrare nel mondo del lavoro. Quindi nessuno può banalizzare questa riforma che farebbe ripartire l'economia e aiuterebbe le persone momentaneamente in difficoltà. E soprattutto chi magari già ha un reddito, per esempio una pensione minima, ma non arriva alla soglia dei 780 euro, il reddito di cittadinanza in questo caso darà la differenza che serve per arrivare a quella soglia minima di dignità. Quindi chi oggi, come i partiti tradizionali, oppure quella stampa comunque asservita al sistema, ridicolizza questo tema, lo fa in maniera, io oserei dire, delinquenziale. Perché in tante regioni avere una misura del genere significa togliere le famiglie e i giovani alla criminalità organizzata, all'andrangheta, alle mafie. Quindi smettiamola di pensare che i cittadini debbano essere sempre considerati sudditi. Come in tutta Europa diamo questo reddito di cittadinanza, solamente in Italia, solo in Grecia non c'è. In effetti sono tra l'altro gli Stati europei più messi in difficoltà dall'Europa, delle banche, della finanza spietata, che non intende assolutamente investire nell'economia reale. E quindi è compito dei movimenti politici come il nostro, di quelle forze che davvero, si vogliono dire antisistema, realizzare una misura che spezzerebbe tutte quelle dinamiche clientelari e di scambio di voto. Perché questo è quello che accade da nord al sud. Penso che anche tu, Valente, non penso che in Liguria ci sia una situazione differente. Assolutamente. Sono situazioni che ormai si trovano in tutta Italia. Quando parliamo di infiltrazioni mafiose, quando parliamo di corruzione, anche ovviamente il nord Italia è interessato. Le regioni, insomma la regione da cui provengo, anche la Liguria, ha visto anche parecchi casi. Quindi questo per noi è una priorità. È una priorità e devo dire anche che a differenza di come gli altri partiti in questo momento stiano pensando semplicemente a trovare la legge migliore che gli consenta di sopravvivere ancora per qualche anno, a pensare come dei dinosauri della politica che sono in Parlamento da 20-30 anni possano ancora ottenere una poltrona, noi siamo qua a parlare di un tema, di temi, e devo dire che questo è il tema prioritario per noi. Quindi ci allontaniamo totalmente da quello che è il dibattito sul pensare a una legge che si cala sulle nostre esigenze, sul pensare a come possiamo sistemare poltrone, amici, conoscenti. Ecco, queste sono logiche che non ci appartengono, non ci apparteranno mai e oggi siamo qua, insomma, per definire la nostra priorità. C'è il mio collega Nicola Bianchi qua che adesso vi passo e ci dirà due parole. Il reddito di cittadinanza è il nostro primo punto, il punto che nel 2013 abbiamo spinto con forza, ovvero la lista del nostro programma, appunto uscire dal buio, il reddito di cittadinanza era appunto il primo punto e coerentemente cerchiamo di portare avanti questa battaglia, lo stiamo facendo in tutti i modi, abbiamo presentato appunto proposte di legge con le relative coperture e nonostante questo comunque i partiti in tutti i modi cercano di ostacolare questo punto che è fondamentale per rilanciare la società, anche perché viene vista come manovra economica, non è una questione tanto per fare, diciamo così, è una questione veramente importante per rilanciare appunto l'economia del paese, è molto importante per ridare dignità, soprattutto magari quegli studenti che comunque cercano di trovare un posto di lavoro serio relativo al loro percorso di studi, ma questo non gli è consentito perché purtroppo molti si accontentano e prendono ciò che c'è in circolazione oppure rimangono disoccupati. Bene, il reddito di cittadinanza servirà anche a questo, permetterà loro di trovare la giusta occupazione e cercherà comunque di dare dignità a tutti quanti. Detto questo comunque non vorrei ripetermi, i miei colleghi hanno già detto tutto, passiamo la parola? Ciao, buongiorno a tutti. Tanto è bellissimo e straordinario essere tutti insieme, c'è tantissima gente e nessuno di noi sente né il peso, né la fatica né tantomeno le gocce che ci accompagnano di pioggia. Anche al Parlamento europeo, io faccio parte della Commissione Occupazione e Affari Sociali, stiamo parlando di reddito minimo garantito e io sono per il Movimento 5 Stelle la relatrice di questo importante documento. Già in Europa si parla da anni di reddito minimo e moltissimi Stati membri, quasi tutti a parte l'Italia e la Grecia, si sono dotati di questa misura di contrasto alla povertà. Oggi dobbiamo fare un passo in più, oggi dobbiamo chiedere questa misura perché in Europa ci sono più di 120 milioni di cittadini che vivono al di sotto della soia di povertà. Queste cifre sono imbarazzanti se pensate che siamo nel 2017 e ci definiamo una società civile. Non è una società civile quella che lascia la Grecia a morire sotto il ricatto della Troica. Non è un'Europa civile quella che permette che siano implementate costantemente riforme strutturali, lacrime e sangue. Non più tardi di ieri il Parlamento greco ha approvato altri tagli alle pensioni e ancora una non possibilità di sgravi fiscali per le aziende. Questo è vergognoso perché gli errori politici vengono semplicemente ripagati e pagati dai cittadini. Questa è la vergogna europea. Oggi in Europa stiamo parlando di reddito minimo per contrastare la povertà e quello che è straordinario è che tutti i gruppi sono concordi, sono attenti a quella che è la nostra proposta. Avete visto dall'Europa al Parlamento nazionale, ai comuni, alle regioni, parliamo di una misura che è necessaria. È necessaria perché, vi ricordo, 123 milioni di poveri in Europa sono la vergogna di una società che non riesce a prendersi cura dei suoi cittadini. Quindi ecco perché marciamo. Marciamo insieme, compatti, anche allegri, anche uniti, perché il Movimento 5 Stelle ha un impegno, dare speranza a quest'Italia, a quest'Europa e soprattutto ai cittadini. Noi siamo la sola, unica possibile risposta a tutto quello di cui c'è bisogno oggi. Io volevo anche magari pensare a quelli che purtroppo non sono potuti venire oggi alla marcia, quindi li salutiamo calorosamente perché sappiamo che anche tanti attivisti, ma semplici cittadini, volevano testimoniare con noi quest'oggi, perché è incredibile che una forza politica così importante oggi debba anche preoccuparsi di forzare il mainstream, il dibattito pubblico e parlare di un tema che viene o censurato dalla stampa italiana oppure ridicolizzato. Questo l'abbiamo vissuto dall'inizio. Anche loro al Parlamento europeo hanno trovato molte resistenze, forse, come ha raccontato lei. Invece, ancora una volta, cerchiamo di sviare dall'attenzione delle solite dinamiche che purtroppo oggi sono una realtà. La corruzione in Italia, oggi leggevamo delle indagini a carico del sottosegretario Vicari, del governo Gentiloni. Ogni giorno c'è una storia nuova. Ieri di Maria Elena Boschi con Banca Etruria. Noi però vogliamo parlare dei temi che davvero toccano i cittadini, perché questo continuo a fare, passatemi il termine, una telenovela sulle azioni di corruzione che tra l'altro poche volte vengono davvero approfondite, che davvero sono pochi i giornalisti che oggi fanno inchiesta. Vuole, a mio avviso, togliere l'attenzione da ciò che sono i problemi comunque reali dei cittadini. Quindi, accanto a questi episodi di corruzione che devono da tutti noi essere denunciati, però i cittadini non devono perdere la speranza, ma soprattutto devono attivarsi affinché dappertutto si parli di temi che davvero toccano la vita delle persone. E quindi il reddito di cittadinanza per noi è la risposta, la risposta a questo momento di difficoltà che sta attraversando l'Italia. L'abbiamo visto in Grecia. Noi, come tutto il gruppo parlamentare, sia europeo sia italiano, siamo stati quella notte in Grecia, ad Atene, quando accompagnavamo il popolo greco a quella avventura che è stata il referendum, che poi è finito come sappiamo. Purtroppo si ne sono infischiati anche del referendum popolare. Ma i cittadini non possono smettere di combattere tutti quei diritti che noi oggi pensiamo che sono acquisiti, che fanno parte della Costituzione. Non possiamo pensare che sono lì fermi, sacri e intoccabili, perché già sono stati intaccati, sviliti dal pareggio di bilancio, dal fiscal compact, dal fatto che ci hanno tolto la sovranità monetaria. Allora, con il reddito di cittadinanza, noi non faremo altro che far ripartire l'economia ed aiutare le famiglie in difficoltà. Perché ricordo che la misura prevista dal reddito l'abbiamo quantificata in 780 euro per le persone, perché 780 euro oggi è la soglia di povertà. E questa è una soglia che tra l'altro si modifica in base al numero, alla consistenza del nucleo familiare. Per cui se un nucleo familiare è costituito da due persone, potrà avere un massimo di circa 1.100 euro. Se è costituita da tre persone, un massimo di 1.500 euro circa. E se così via, un nucleo familiare è costituito da quattro persone fino ad un massimo di 1.950 euro. Quindi, come vedete, è tutta una riforma studiata, pensata bene, perché le leggi non devono essere fatte tanto per ingolfare un Parlamento, devono essere studiate. E io ringrazio i nostri colleghi, in particolare Nunzia Catalfo, che è stata la prima firmataria del disegno di legge del Movimento 5 Stelle al Senato. Ringrazio per l'attenzione che tutti hanno messo alle famose coperture. Nel 2013, quando siamo entrati, siamo stati assolutamente subvissati dai giornalisti, ma le coperture per il reddito, dove le trovate, dove le troverete? Abbiamo risposto a tutti. Adesso voglio passare la parola ad un'altra collega al Parlamento europeo. Grazie, Dalila. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo tantissimi. Anche quest'anno è un fiume in piena. È un fiume in piena. Siamo migliaia di cittadini che sono scesi in piazza per chiedere a questo Governo il reddito di cittadinanza. In Europa ci sono 123 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Questo significa una persona ogni cinque che purtroppo non ha la possibilità di vivere dignitosamente. La dignità è un diritto fondamentale. Noi chiediamo anche al Parlamento europeo con forza che venga istituito un reddito minimo. La nostra collega Laura Gea è titolare di un rapporto con il quale sta chiedendo a tutto il Parlamento che anche in Italia si istituisca un reddito minimo considerato che soltanto Italia e Grecia sono gli unici paesi in Europa a non aver ancora istituito un reddito di cittadinanza. Abbiamo ben presente purtroppo la situazione della Grecia è una situazione drammatica in cui le persone purtroppo non hanno neanche la possibilità di curarsi, di comprare dei farmaci di vivere, ripeto, con dignità. Si parla di sopravvivenza. Per cui non vogliamo che in Italia si arrivi alla stessa situazione. Non vogliamo che si verifichi la stessa cosa. Noi stiamo chiedendo che il nostro Governo faccia una manovra economica a tutela dei cittadini. Quando vogliono, i soldi ci sono e l'hanno dimostrato con la manovra per salvare le banche. Noi vogliamo salvare i cittadini. Ci dicono sempre che i soldi non ci sono. Noi abbiamo presentato un piano per le coperture economiche. Hanno ricevuto la bollinatura e questo significa che se c'è la volontà di fare una cosa, si può fare. Questo significa che le coperture ci sono. Bisogna capire dove si vuole indirizzarle. Noi le vogliamo indirizzare per i cittadini. Le vogliamo indirizzare a restituire ai cittadini dignità e diritti fondamentali. Ci auguriamo che questo Governo ci ascolti e se non ci ascolterà, quando saremo noi al Governo, sicuramente istituiremo finalmente un reddito di cittadinanza. Do la parola al mio collega Marco Zullo. Sì, siamo tantissimi oggi. Questa è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che mette realmente il cittadino al centro dell'azione politica. Oggi bisogna restituire assolutamente la dignità ad ogni cittadino, ad ogni persona. Il mondo sta cambiando molto velocemente e questo paradigma di rincorrere il lavoro e quindi svendere la propria dignità, la propria persona per avere un reddito come è adesso, solo per sopravvivere, non può più funzionare. Oggi dobbiamo cambiare assolutamente il modo di approcciarci. Dobbiamo dare la possibilità a chi che sia, prima di tutto, di vivere e poi pensare al lavoro, non lavorare per sopravvivere. Questa situazione non ci va più bene. Il Movimento 5 Stelle lo sta dimostrando con i fatti, proposte concrete e reali. La copertura economica, abbiamo già detto, esiste. Cioè, manca solo la volontà politica di mettere davanti il cittadino rispetto a altre dinamiche che in realtà stanno semplicemente facendo scadere la popolazione in una lotta fra poveri. Oggi non può più andare avanti in questo modo. Il mondo sta cambiando, il mondo del lavoro cambierà e dobbiamo anticipare i tempi con una normativa che sia flessibile e metta al centro il cittadino e la sua dignità. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Se non riusciamo a fare questo, allora abbiamo fallito. Abbiamo fallito come politici e abbiamo fallito come responsabili per offrire un futuro a quelli che sono i figli. Noi, come Movimento 5 Stelle, ci siamo presi carico di questa responsabilità e lo stiamo facendo. Lo faremo e se saremo al Governo, anzi, quando saremo al Governo, non racconteremo più balle ai cittadini perché la volontà di fare le cose l'abbiamo messa in campo, abbiamo dimostrato che è possibile e abbiamo dimostrato che questa è l'unica via possibile per il futuro. Sì, siamo continuamente in diretta. Siamo in diretta? Aspetta. Poi voglio dire anche che non è la prima volta che presentiamo il reddito di cittadinanza dentro le istituzioni perché esiste un disegno di legge a firma... Ma siamo in diretta? No, siamo ancora in diretta. Ok. No, semplicemente ci dicevano che rallentiamo un po' perché dobbiamo aspettare dietro. Ovviamente c'è Beppe che è pressata dai giornalisti e noi continuiamo comunque rallentando un po' questa marcia. Dicevo che nonostante ci sia un progetto di legge depositato al Senato, a prima firma Nunzia Catalfo del Movimento 5 Stelle, un provvedimento che è fermo in Commissione, non lo vogliono portare avanti, ma noi già in precedenza, negli anni, abbiamo trasformato questo progetto di legge in forma di emendamento e l'abbiamo inserito nei vari provvedimenti che ci passavano davanti alla Camera, al Senato. Quindi abbiamo dato più volte a questo Governo, a quello passato, la possibilità di approvare questo emendamento che conteneva il reddito di cittadinanza. Quindi sono d'accordo con quanto ha detto Zullo prima, il nostro parlamentare europeo. È la volontà politica che manca perché ormai la scusa delle coperture non c'è nemmeno più e perché questa nostra riforma sarebbe rivoluzionaria, perché si alzerebbero le pensioni minime. Se noi diciamo che la soglia di povertà è a 780 euro, significa che anche gli stipendi minimi dovranno essere parametrati a quel dato, che le pensioni minime dovranno essere finalmente parametrate a quel dato. Quindi è per questo che cercano di dire che è una misura assistenziale, dannosa per il lavoro. Non è vero, perché quanto lavoro nero emergerebbe da questa riforma? Quanti pensionati finalmente non dovrebbero campare con i soliti 100-200 euro, ma innalzati a 780 euro? Quindi la loro paura è proprio mettere in crisi un sistema economico che è stato pensato, congegnato assolutamente per far rimanere milioni di cittadini italiani poveri, perché con la povertà, con lo stato di bisogno, possono continuamente gestire le folle, il popolo che giustamente per campare, per andare avanti, poi si disinteressa di tutto il resto. Allora ci distraggono in televisione con le solite notizie, con le solite trasmissioni di basso livello. Quindi il risultato qual è? Che i cittadini sono schifati, non ce la fanno più e si disinteressano di tutto. Mentre magari, conoscendo questa proposta che fa il Movimento 5 Stelle per uscire dalla povertà, ritroverebbero anche la voglia di combattere, di fare politica, perché politica non è quella becera che si è ridotta dentro alcune aule, dentro alcune istituzioni, dove vediamo dei politici, dei politicanti battibeccare. Vedete che ormai quando il Movimento 5 Stelle parla dentro le aule non ci dicono più che siamo degli impreparati, che siamo dei ragazzini, perché sanno benissimo che su ogni tema si alza qualcuno di noi e li mette in riga, signori. Quindi poi loro hanno tutte le televisioni, la stampa da loro favore, ma la verità è che i cittadini giorno per giorno si stanno emancipando anche da una cultura di mediocrità, di bassezze. Lo dico da Calabrese, c'è un giornalista altrettanto calabrese qui in mezzo a noi, e quindi l'abbiamo detto dal nord al sud, un reddito di cittadinanza toglierebbe alle mafie la criminalità organizzata, il controllo di grosse fette della popolazione. Perché se è lo Stato a dare un reddito minimo, significa che queste persone non si appoggeranno più alle andranche da tutte quelle mafie che hanno ridotto alla povertà, all'emarginazione, ed hanno affamato una popolazione. Ormai siamo, qui c'è il mio collega Duva che poi invita a parlare, siamo Calabria, Sicilia, siamo tutte regioni che sono state condannate all'emigrazione di massa, e questo è inaccettabile e un governo non lo dovrebbe permettere. Adesso, proprio perché parliamo... Beh, notiamo, non so se gioire o meno, siamo più di due anni fa, siamo più... Siamo più di due anni fa, siamo molti di più, non so se è una buona notizia. Si vede che c'è più poveri di due anni fa, speriamo di no. Questa è una marcia per l'intelligenza... Scusate, questa è una marcia a favore, non della scomparsa della povertà, ma è a favore dell'intelligenza. Cioè, un popolo intelligente non mette per la strada dieci milioni di persone che possono diventare aggressivi e pericolosi, li cerca di introdurre nella società e dato che non c'è lavoro lo devi fare con il reddito. Mi sembra un'equazione molto semplice di dignità, ma anche di intelligenza economica. Facciamo una marcia per essere intelligenti, forse non siamo intelligenti, non lo so, ma non ci dovrebbe essere una forza politica contraria a questa cosa qua. Sediamoci, ne parliamo, ne parliamo, volete parlarne come ritrovi? Perché se non c'è la volontà politica di tutti, è chiaro che se noi reperiamo i fondi di 15, 17 miliardi dal gioco d'azzardo, dalle militari, dalle assicurazioni alle banche e voi siete contrari, è chiaro che chiuderanno i flussi di danaro per finanziare questa cosa qua. Lo sappiamo già prima. Ma allora, sediamoci e decidiamo se mollare 10 milioni di persone al loro destino e noi andiamo avanti col PIL, produrre, non produrre, produrre cose e li molliamo così o sederci un attimo e fare un punto della situazione. Ma non è che possiamo far finta che non esistano queste persone, perché poi ci verranno a cercare e io credo che vi verranno a cercare. Io ci sono in mezzo. Quindi, che cosa? Possiamo alzare la telecamera, per favore? Allora, come vedete, nei primi 10 metri sono veri, gli altri sono sagome con le rotelle. Abbiamo inventato la sagoma sul Seagway, c'hanno il Seagway ma sono sagome ferme così. No, siamo tanti. Siamo tanti. Ecco, non ci dovremmo. Poi ho visto che c'è un sacco di quelli del PD con la maglia gialla che si sono intrufolati qua e cercano dei sacchetti dell'immondizia, ma non ce ne abbiamo qua. Semmai ve li portiamo in sezione. Quindi, non so cosa dire. Qui si parla di dare una svolta a questo sistema che non sta più in piedi. Dove? I cittadini non contano. È pericolosa. Io parlavo prima dell'invisibilità. Le persone, quando diventano invisibili, diventano pericolose. Dobbiamo sentire. Ho visto adesso dei partiti lo stanno facendo, partiti, ex, qualcosa. Stanno andando in mezzo alla gente a sentire. Ti prendi anche il rischio di essere boicottato. Perfetto, è giusto anche così. Ma adesso il nostro compito, il compito del movimento e di tutti gli altri al governo è quello di sentire, avere l'orecchio. Noi abbiamo il più bello orecchio d'Europa, che è la Virginia Raggi. Ecco, quell'orecchio lì deve essere posto come per sentire tutte le esigenze di persone che non ce la fanno. E non può essere solo colpa di chi non ce la fa. Non può essere solo quello. Non puoi far venire la disperazione, il senso di colpa alle persone. persone vanno aiutate e non renderle invisibili. Perché andiamo verso qualche cosa, se non facciamo questo tipo di operazioni, andiamo contro qualche cosa di strano, che non puoi più controllare. grazie, ci vediamo dopo. Grazie. Andiamo, andiamo. andiamo, andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi per noi questa marcia ha già un grande significato perché alcuni risultati li abbiamo portati a casa, certo sono 8 mila i comuni italiani e per questo dobbiamo cercare di governarne sempre di più e recuperare risorse per spingere questo provvedimento a livello comunale. Speriamo anche che si possa governare questo Paese come Movimento 5 Stelle il prima possibile perché il primo decreto che faremo al governo di questo Paese sarà un decreto legge per il reddito di cittadinanza. Ciao a tutti, grazie. Questo microfono... Scusa, tu parli inglesi? Oh, ciao! Ciao, non parli inglesi? Tutto bene, si è bagnato abbastanza. Alessandro parla russa. Ci abbiamo al doppio dei poveri di due anni fa. Via, 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 via. No, via, via. Scusa, dai, c'è la delegata. Ok. Attenzione dietro. Grazie. Teniamo l'alto così, teniamo l'alto. Teniamo il microfono di qua. Soprattutto per la porta. Ho già detto. Calmi, calmi. Calmi, calmi. Facciamoli parlare Beppe, qui è. Ancora Beppe. Vai da Davide. No, da Davide. Dov'è Davide? Dov'è Davide? Dov'è Davide? Davide? Davide! Davide, fate entrare Davide nella corsia. La corsia di qua. Sei sempre in emergenza, lì, nella corsia di emergenza. Ora lui, I speak English and my translate, my translate for my questions is, non so. Allora, ma mi sembra, guarda, quindi qualcosa, mi sembra, io pensavo non venisse nessuno. Sono più poveri di due anni fa. C'era un po' meno di due anni fa. No, secondo me c'è un sacco di gente. Più o meno di più. Chi? La GP Morgan, chi vuole? Casaleggio, un attimo. No, adesso sono impegnata, vuol dire a me? Un equity swap sul movimento? E quanto siete disposti a tirare fuori? Una bella cifra. Ma non possiamo ridistribuirla però sui poveri. Li possiamo tenere noi due famiglie? Grazie. 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 Mamma, mamma ti prego, mamma ti prego, se sai delle cose dille per favore, la spesa, chi l'ha presa la spesa, se lo sai devi dirlo, ma se devi dire tutto quello che è, dillo anche a mia cognata, a mia babola, basta. Grazie. Sì, sì, si voleva cambiare la maglietta del camper, che ce l'ha bagnata, hai ragione. Sì, sì, si voleva cambiare la maglietta del camper. Grazie. 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 tardi. Purtroppo le camariglie in Parlamento degli uni e degli altri non aiutano il nostro progetto, ma il nostro progetto è già realtà. È fatto proprio da decine di migliaia di persone che sono qui oggi a Perugia, con l'Umbria al centro di manifestazione politica nazionale. A noi come Movimento 5 Stelle Regione fa estremamente piacere questo ritorno. La situazione sta ulteriormente peggiorando, come sapete, perché le politiche sin cui seguite a tutti i livelli assembleari da queste maggioranze ci allontanano da una condizione di benessere viceversa raggiungibile, facilmente raggiungibile. Chiediamo a tutti coloro che credono in questo sogno di continuare a stare accanto a noi. La nostra marcia è in corso ed è appunto testimonianza di un impegno per il futuro dell'Italia. Grazie. Grazie. Siamo qui come due anni fa per chiedere il reddito di cittadinanza, perché il governo e i parlamentari non conoscono la vita reale, non conoscono il malessere che vive la gente comune, il malessere che vivono gli operai e anche tutti i disoccupati, tutti coloro che hanno perso il lavoro, anche quelli che hanno l'età di 50 anni devono rimettersi in discussione. Basta, siamo qui non soltanto per pensare al nostro orticello, ma per pensare anche a coloro che non stanno realmente bene. Grazie. Buongiorno, Luca Tramini. Candidato sindaco per Todi, Diego Giorgioni. Due candidati sindaco a 5 Stelle qui in Umbria. Diciamo che stiamo combattendo una dura battaglia, la campagna elettorale. Campagna elettorale dura perché non abbiamo i finanziamenti di partito, abbiamo solamente le nostre forze, siamo soli ma con i cittadini, la forza più importante. Sembrio nel nostro territorio ci sono cinque liste, il PD con lui ha quattro, cinque liste d'appoggio. Noi una sola lista, non abbiamo bisogno di alleanze, abbiamo bisogno solamente di cittadini che stanno rispondendo molto bene, siamo contenti, già abbiamo iniziato a portare avanti il nostro programma su un punto fondamentale dello sviluppo turistico, per cercare di spostare quella che è ormai un tessuto economico che a Narni è in gravissima crisi, una crisi economica causata dalle fabbriche, dalle multinazionali che sono arrivate nel nostro territorio, hanno deturpato quelle che sono le nostre ricchezze, lasciando solamente inquinamento e dobbiamo spostare questo target e andare verso lo sviluppo turistico, verso la piccola e media impresa, l'artigianato. Adesso lascio la parola a Diego, vai. Situazione molto simile quella a Tuderte, c'è un grande impegno da parte mia e dei nostri candidati con i quali abbiamo condiviso un'esperienza meravigliosa, faticosissima. Abbiamo cominciato a girare le frazioni, Todi ha 38 frazioni, abbiamo iniziato a girarle due anni fa per costruire un programma, per accogliere proposte, proposte serie, concrete e realizzabili. Un programma privo di slogan, ma fondato sulla partecipazione. Quella dobbiamo ritrovare, la partecipazione, le associazioni, contributi gratuiti e liberi di cittadini tuderti che possono e vogliono dare informazioni da condividere. Questo è il nostro programma, privo di slogan, è fatto solo e soltanto di cose realizzabili a costo zero, maggiormente a costo zero. Abbiamo anche ipotizzato la creazione di un... Questo qui comunque è un cambiamento, mi ha fatto veramente sorridere. E calcolate che la prima volta che a Narni si presenta una lista, penso come anche a Todi, in cui tutti quanti i candidati hanno presentato il certificato dei carichi vendenti, giusto? Sì, assolutamente. Ovviamente, quindi non abbiamo nessun precedente, siamo cittadini comuni che si sono stufati di questo sistema, hanno deciso di mettersi in campo, di sacrificare anche una parte delle loro vite per cercare di cambiare, ovvio, al tempo delle loro famiglie, anche perché tu comunque hai una famiglia, io sono studente, quindi ancora niente, però io sono due bambini, è un sacrificio importante che mettiamo a disposizione per il nostro territorio, perché lo amiamo e vogliamo veramente cambiare, vogliamo veramente dare una svolta a quali sono le nostre realtà, a ridargli un futuro, un futuro che penso che meritano, giusto? Siamo qui per questo perché il reddito di cittadinanza è uno strumento fondamentale per ritrovare dignità e dare la pace sociale alle vecchie cosiddette categorie sociali. Oggi non ci sono più, sembrano molto, molto confuse. Certo, dare un'opportunità ai cittadini, come diceva giustamente prima Peppe, per dare, non è tanto lo strumento economico nel suo piccolo, ma è dare un'opportunità a far credere appunto ai cittadini e dargli fiducia. Grazie. Un'ultima parola, sono qui con il nostro candidato Valerio Chiaraluce, che è il nostro spin doctor, è stato definito così, per la cultura. Buongiorno, io mi occupo di cultura nella lista di Todi, del Movimento 5 Stelle, perché la cultura è la nostra identità e è molto importante. Molte volte viene lasciata all'ultimo posto, noi non faremo questo, anche perché vogliamo che la cultura diventi il motore per il turismo, che è la principale fonte di reddito del nostro comune. Allora, ciao, come vedete siamo in 50.000, 50.000 per fare una marcia importantissima per l'Italia e per gli italiani. Il nostro disegno di legge sta in commissione Senato, in commissione lavoro al Senato da tre anni e questo dimostra la volontà di tutti i partiti politici di qualsiasi schieramento di non volere portare avanti una misura così importante per gli italiani. l'Istat ha certificato che usufruirebbero della misura 2.750.000 famiglie. 2.750.000 di questi, un milione, sono famiglie con bimbi minori. Pensate qual è l'emergenza italiana. Onestà, gridano dietro e hanno ragione. Onestà, 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 soprattutto perché il reddito elimina immediatamente il voto di scambio, non c'è più il ricatto del lavoro, varie associazioni hanno proprio detto questo, anche Libera lo ha inserito nel primo punto nel manifesto contro le mafie, non è possibile ancora dover aspettare, questa è una misura economica, è una misura che ridà di indietà ai cittadini italiani, è una misura che fa riprendere in mano ai cittadini italiani la propria vita ed è questa la battaglia che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti da anni, noi non demorderemo e sarà la nostra prima misura come forza di governo. Eccoli qua. Allora, siamo qui oggi in 50.000 a marciare per il reddito di cittadinanza, noi a Livorno abbiamo fatto il primo reddito di cittadinanza concreto, importante, abbiamo stanziato grazie a delle misure di efficientamento della macchina amministrativa, 300.000 euro durante il primo dei due bandi che abbiamo messo in piedi, abbiamo permesso a 100 famiglie di ottenere un sostegno di 500 euro al mese e quindi in qualche modo abbiamo sperimentato dal vero, su quello che di fatto poi è la vita concreta delle persone, che cosa vuol dire poter mettere in piedi un importante strumento come il reddito di cittadinanza. Siamo al secondo bando, abbiamo allargato ancora di più la nostra cifra, siamo intorno ai 450.000 euro che abbiamo stanziato, abbiamo diversificato la metodologia, non è più soltanto una misura per le famiglie, ma abbiamo destinato una quota parte anche ai single, abbiamo ampliato l'età agli over 65, insomma ci abbiamo creduto veramente con il cuore e quello che è avvenuto fuori va ben al di là di quello che i soldi in tasca delle persone possono in realtà fare. Il reddito di cittadinanza è una misura che va a agire soprattutto sulla dignità delle persone e credo che sia probabilmente il primo intervento che il Movimento 5 Stelle potenzialmente al Governo potrebbe mettere in piedi cercando di togliere dalla fascia di povertà moltissime persone, questo è quello che io mi auguro che presto riusciremo a vedere al Governo di questo Paese e che dire, noi ci continuiamo a credere, continuiamo a lavorare con molta dedizione e serietà e questo è ciò che di fatto sempre più riusciremo a mettere in piedi in tutte le città che amministriamo. È chiaro che questo è un intervento, come dicevo, di natura ben più che locale, però la nostra sperimentazione è servita a vedere che non sono soltanto parole, ma noi siamo soprattutto fatti e ce l'eravamo riprobiense in campagna elettorale e ci siamo riusciti. ce la facciamo? Siamo in galleria. Allora un secondo. Siamo in galleria e non si sente niente. Facciamo parlare un po' il pubblico. Allora ciao a tutti, stiamo percorrendo questi 19 chilometri per un importante risultato, un risultato che questo Paese aspetta ormai da troppo tempo. il reddito di cittadinanza. Mi sentite? Mi sentono? Ok. Il reddito di... Aspetta che non riesco a parlare perché c'è il caos. Allora stavamo dicendo, scusate, che prima eravamo in una galleria e non si sentiva bene. Sono 19 chilometri che stiamo percorrendo, anche sotto la pioggia, per fortuna ora è uscito il sole, per rivendicare un sacrosanto diritto. Il reddito di cittadinanza non può essere ancora considerato una misura esistenziale. È una vera riforma strutturale economica che serve veramente in questo Paese, in questo preciso momento storico, in una crisi economica ma soprattutto sociale. Lo Stato non può rimanere a guardare, non può sempre occuparsi e preoccuparsi degli amici e degli amici, delle solite lobby. Attenzione al cartello. Non può sempre solo dedicarsi agli amici e degli amici, alle solite lobby, alle multinazionali come abbiamo visto finora. È arrivato il momento di far capire a questi governi, non lezzi di nessuno, le priorità di questo Paese. Il Movimento 5 Stelle lo sta dicendo ormai da anni e sarà la nostra prima misura, il nostro primo provvedimento una volta che riusciremo ad andare al governo di questo Paese. È una misura che, dicevo prima, permetterà anche una rivoluzione all'interno dei centri dell'impiego. Diventeranno dei veri e propri laboratori di idee, laboratori per poter mettere al centro il cittadino e poterlo reinserire nel mondo del lavoro. Inoltre anche i beni demaniali potranno essere utilizzati, a servizio magari dei giovani imprenditori, a servizio delle start-up innovative. E perché no, anche i beni demaniali agricoli potranno essere messi a disposizione per chi vuole scommettere su questa impresa particolare. Quindi è una rivoluzione in tutti i sensi che va ad abbracciare il mondo del lavoro, il mondo dell'economia, il mondo dell'innovazione. Anche il settore primario, come dicevo prima. E inoltre la causa, l'effetto più importante di questo provvedimento è finalmente spezzare le catene che legano ancora il popolo italiano al sistema clientelare. Con il reddito di cittadinanza noi possiamo finalmente dire basta ad accontentarci delle bricele, a fare qualsiasi lavoro pur di portare il pane a casa. E questo ha creato vantaggio alle mafie, alle comunità organizzate, perché i più poveri essendo disperati e pur di portare qualcosa a casa accettano qualsiasi tipo di lavoro e spesso finiscono per lavorare per la manovalanza dell'andrangheta o della comunità organizzata. Quindi il reddito di cittadinanza serve anche per spezzare queste catene, per distruggere questo sistema, ecco perché i partiti non vogliono approvarlo. Non vogliono approvarlo perché gli togliamo un giocattolo, gli togliamo il giocattolo che è quello del popolo debole che è costretto a piegarsi pur di portare il pane a casa. Il reddito di cittadinanza finalmente rende giustizia, deve essere lo Stato a stendere la mano verso il più debole e non le mafie. Questo è un principio che deve passare assolutamente perché non è più possibile continuare con queste elezioni che sono veramente forse una farsa, perché ormai il voto è comprato, il voto è telecomandato. Perché? Perché si promette qualsiasi cosa, si promette qualsiasi cosa. E allora con questa misura, con questo diritto che diamo appunto al popolo italiano finalmente possiamo riparlare di libertà, di informazione, di lavoro sostenibile e di rilancio dell'economia di questo Paese. Ecco perché stiamo facendo questi 19 chilometri, non ci fermeremo sicuramente oggi, continueremo a portare avanti questa priorità nella nostra agenda, l'abbiamo ovviamente inserita nel programma di governo. Torno a ripetere, non è una misura esistenziale, è una vera manovra economica. Ora passo la parola a qualche altro collega che vorrà dire spendere due parole per il reddito di cittadinanza. Continuate a seguirci e a rivedere le stelle. Ciao a tutti ragazzi, sono Daniele Delgrosso, deputato alla Camera, sono qui insieme a Dalila Nesci, una mia collega. Ciao a tutti, siamo qui oggi a fare questa marcia per una dignità sociale, per la dignità degli italiani, per la dignità di tutti. Ormai purtroppo viviamo in un Paese dove la povertà sta diventando un qualcosa di comune, di troppo comune. Noi siamo qui a marciare per chiedere il reddito di cittadinanza che ridarà dignità ad ogni persona in Italia. Oggi è importantissimo, questo governo finora ha finanziato solo banche, ha dato soldi alle lobby ma non ha pensato ai propri cittadini. A maggior ragione oggi, in questi giorni, si parla soltanto di legge elettorale perché l'unica loro importanza è quella di riprendersi una poltrona e di andare avanti così per molti altri anni. Noi questo non lo vogliamo, vogliamo andare al governo, siamo in grado di governare questo Paese, ormai siamo maturi, abbiamo imparato tantissimo in quattro anni di Parlamento, ce la faremo, ne siamo convinti, ne siamo convintissimi. Tra poco andremo alle elezioni con tante amministrative, su tanti comuni in Italia e vedrete che sarà un risultato strepitoso. Stanno cercando di diffamarci in ogni modo, parlano male su qualsiasi media, cercano di buttarci fuori ma non ci riusciranno perché la popolazione italiana sta prendendo coscienza di quello che accade oggi. Vedrete che ce la faremo, ci serve una mano di tutti, tutti ci devono mettere la faccia, è importantissimo. Ed ecco perché oggi siamo qui tutti insieme, forse addirittura siamo più degli altri anni, più di due anni fa e questo è un risultato favoloso. Io lascio la parola a Dalila Nesci che è qui con me, grazie. Allora, ovviamente noi vogliamo fare la concorrenza alla Maratona di Ventana, diciamolo. Certo. In realtà è un modo ovviamente per parlare dei temi di questa marcia che sono il reddito di cittadinanza e quindi dignità per tutti perché lo sappiamo, la nostra è una Costituzione che è fondata sul lavoro. Non viene rispettata, non viene per niente rispettata, questo è il problema. Però oggi ciò che esclude i cittadini dalla vita sociale, dalla comunità è la mancanza di reddito. Questo è un approccio, se vogliamo, anche rivoluzionario che tutte le forze politiche devono fare. A me è capitato anche di interagire con altre associazioni, sindacati. Ormai siamo per lo più convinti che ad escludere le persone dalla vita è proprio la mancanza di un reddito. Un reddito minimo che esiste in tutta Europa. È davvero una misura che tanti altri governi europei hanno messo in campo perché dovrebbe essere assodato che è lo Stato a dover dare un sostegno alle persone in difficoltà. Penso che sarei d'accordo con me, Daniele, in tante regioni povere dell'Italia, chi si trova in uno stato di bisogno, di sofferenze, di povertà, poi si avvicina più facilmente alla criminalità organizzata, a tutta quella rete che le mafie poi riescono a gestire. E poi le recenti anche inchieste della magistratura, da nord a sud, svelano sempre questo legame fra la politica, la criminalità organizzata, la massoneria, tutta una rete di poteri che ovviamente non hanno nessuna volontà né politica né morale di allontanare i cittadini dal disagio. Ci hanno fatto il lavaggio del cervello con la crisi finanziaria. Ci hanno rotto anche un po' le scatole. E aggiungo una cosa importantissima. Oggi ogni volta che andiamo ad elezioni, a nuove elezioni, ci promettono lavoro. Promettono sempre lavoro con la speranza di raccimolare qualche voto. Oggi purtroppo siamo arrivati ad un punto dove non è nemmeno più la soluzione il lavoro. C'è bisogno di creare un reddito immediatamente, perché solo così riusciamo a dare un attimo di respiro a chi oggi purtroppo sta soffrendo o perché il lavoro l'ha perso o perché addirittura non va nemmeno più a cercarlo. Quindi è un'occasione unica questa. Abbiamo un Movimento 5 Stelle che si è fatto conoscere come un'ottima opposizione. Tra pochissimo tempo avrà la grande possibilità di poterlo governare questo Paese, di poter andare al governo, di avere un'amministrazione pulita, onesta, trasparente, con gente nuova, giovane, buttando fuori tutti quei vecchi politici che finora hanno affamato questo Paese. Per favore non crediamo più alle fesserie che vengono dette tutti i giorni in televisione. Stanno tirando gli ultimi colpi, cercano di salvarsi in ogni maniera. Noi siamo diventati una forza politica importantissima, siamo un qualcosa di completamente diverso rispetto a qualsiasi altro partito. Dimostriamo così la nostra partecipazione perché vogliamo dimostrare quanto siamo forti. Lo dimostriamo in Parlamento, in Aula, alla Camera, in Senato, in tante piccole amministrazioni, in tante regioni e soprattutto lo dimostriamo qui per strada che forse è il posto più importante di tutti. Qualcuno mi fa notare che, non so se vuoi vedere, siamo davanti Banca Etruria, una delle filiali di Banca Etruria, giusto a ricordare l'ennesimo scandalo di questo governo che ha coinvolto la ministra Boschi che, nonostante questo, rimane impunita. Non si smuove da lì, ovviamente perché c'è una rete di impunità generale all'interno del governo che ovviamente far saltare uno significherebbe far saltare il governo. Ma spostiamoci in Europa. Che ci dici Max? Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi, chi fisicamente, chi ci sta seguendo da casa. Noi oggi stiamo facendo una marcia per far recuperare la dignità al popolo italiano. Ci sono zone del nostro paese in cui la disoccupazione giovanile ormai è arrivata al 50, anche al 60%. Ci sono sacche di immarginazione incredibili. Ormai anche tagli lineari alla sanità hanno portato ad avere recrudescenze di patologie che sembravano quasi sconfitte e ci sono milioni di persone che sono ormai escluse persino dal sistema sanitario nazionale. Questa è l'Italia del 2017. Questa è l'Italia che invece noi vogliamo andare a salvare dal disastro che ha subito per colpa della classe politica e della classe partitica che attualmente ci governa. Hanno fatto questo cambio di staffetta Renzi e Gentiloni ma in realtà la musica è sempre la stessa. Sempre tagli lineari, sempre la volontà di socializzare le perdite e di invece privatizzare i vantaggi e i diritti. Questo noi non lo permetteremo mai. Il reddito di cittadinanza, lo ribadiamo, non è una misura assistenziale, è una misura di riqualificazione della forza lavoro per da un lato impedire che ci siano omicidi di Stato, non suicidi ripeto, ma omicidi di Stato come ne abbiamo visto nel corso di questi anni, di persone, di piccoli e medi imprenditori, di operai disperati perché manca una pianificazione strategica anche per quanto riguarda la riconversione economica, per quanto riguarda gli effetti della globalizzazione e gli effetti anche della speculazione selvaggia. Noi invece vogliamo fare in modo che con questa misura le persone possano sopravvivere e acquisire competenze e trovare un lavoro. C'è in tutta Europa? Perché non può esserci anche in Italia? Solo noi e la Grecia non ce l'abbiamo, basta con questa ipocresia, con il reddito di cittadinanza, le persone possono tornare a essere cittadini e non sudditi. Adesso siamo appena passati davanti a Banca Etruria. Marco Valli in Europa si occupa dei temi economici ed è importante ascoltare le porcate che stanno facendo sulle banche. Grazie Laura. Parlare di banca si può collegare assolutamente anche al reddito perché per le banche ci sono sempre le risorse per andare a coprire quelle che sono state le ruberie che sono state fatte negli anni. Queste famose sofferenze bancarie che si sono accumulate. Andate a capire cosa c'è dietro queste sofferenze. Vediamo una congestione tra politica, manager e anche chi doveva fare la vigilanza. Quindi Banca d'Italia. Adesso è tutto passato alla Banca Europea. Però andate a vedere chi aveva firmato le carte ad esempio per la cessione d'Anton Veneta che è stata fatta quando c'era un certo Mario Draghi a gestire Banca d'Italia. Queste carte firmate da Marione dovrebbero essere prese in mano e verificate su quelle che erano le sue competenze in quanto vigilante in quel momento sulle situazioni bancarie. Allora sulla manovra del reddito dobbiamo assolutamente finanziare questa manovra perché è una manovra economica. Le persone sotto la soglia di povertà non si può permettere che continuino a vivere in queste condizioni. Abbiamo sicuramente evidenziato degli enormi sprechi e spese improduttive all'interno del bilancio. Però dobbiamo anche fare poi dopo i conti con quelle che sono le regole europee che i partiti ci hanno fatto sottoscrivere negli anni. Quindi questi vincoli economici assolutamente vanno rivisti per fare investimenti quando c'è bisogno, quando c'è un'emergenza come la povertà, quando c'è un'emergenza come la necessità di ricostruzione del terremoto. C'è bisogno di andare oltre delle regole dei vincoli che sono stati sottoscritti da chi in questa condizione di crisi, magari in conflitto di interessi con i grandi portatori di interesse internazionali, sta anche speculando sul nostro Paese, comprandoselo a prezzo di sconto. Quello che sta anche succedendo in Grecia, per esempio. La Grecia è l'esempio tipico di quella che è la manovra che stanno facendo i grandi portatori di interesse. Mettere sotto scacco dei Paesi dal punto di vista economico, togliendoci la sovranità di poter decidere dal punto di vista fiscale e monetario. E allora perdendo poi le leve per uscire dalle crisi. E se non abbiamo le leve economiche per uscire dalle crisi, siamo sottoposti a svendita e chi appunto in questo momento finanzia anche gran parte dei partiti internazionali è molto interessato a questa vendita a prezzo di sconto. Questo va impedito e lo impediremo e faremo una battaglia molto forte su questi temi e sono tutti i temi su cui il Movimento 5 Stelle, tutti i portavoce, tutte le persone che ci seguono oggi si spendono quotidianamente. E quindi, ragazzi, dateci una mano, contribuite, partecipate, condividete i nostri contenuti e cerchiamo di portare avanti queste battaglie. Grazie. Ciao a tutti. Ottimissima giornata, vi verrebbe da dire, con tantissima gente. Adesso c'è anche il sole. E siamo veramente contenti di essere qua tutti insieme per camminare per il reddito di cittadinanza. Perché è una misura che serve per tutta la nazione, per tutti i cittadini che hanno in questo momento bisogno di un reddito, perché un reddito non ce l'hanno. Molti ci accusano che il reddito di cittadinanza è una misura che dà solo assistenza e non crea lavoro. In realtà è una propria misura creata apposta per produrre lavoro. E il tutto si basa sui centri per l'impiego, che adesso non funzionano. Adesso creano solo file, creano solo malcontento. Invece con la proposta del Movimento 5 Stelle diventeranno finalmente operativi. Perché dobbiamo ricordarlo? Perché non funzionano oggi i centri per l'impiego. Non funzionano perché non c'è la volontà politica di fare in modo che funzionino. Sappiamo benissimo che l'incrocio domanda-offerta è una cosa difficile perché c'è poca domanda di lavoro. C'è molta offerta di persone che vogliono lavorare, ma poca è la richiesta da parte delle aziende. Noi, con la nostra proposta sul reddito di cittadinanza, puntiamo proprio a far diventare i centri per l'impiego dei centri studio per il lavoro, per riuscire a creare opportunità lavorative. Attraverso che cosa? Attraverso i gruppi di lavoro, formati da persone che cercano lavoro, ma soprattutto da persone che guidino questi gruppi, da ex imprenditori, da tutor, da persone esperte nella ricerca di finanziamenti, da persone esperte nella politica del lavoro, da persone esperte nella formazione. Ebbene, queste equip seguiranno dei gruppi di lavoro e creeranno delle aziende. Ora, in Italia abbiamo la forma cooperativa. Purtroppo in questi anni abbiamo visto come è stata violentata la forma cooperativa di lavoro. Perché? Perché viene utilizzata soprattutto per creare aziende con il vestito da cooperative, ma che cooperative non sono. Ebbene, con il reddito di cittadinanza e i centri per l'impiego anche la funzione cooperativa verrà migliorata e verranno proprio create aziende di persone che vogliono creare insieme aziende nuove. E con i finanziamenti che verranno trovati, con i progetti che verranno messi a punto, con le persone che ne sanno, con gli esperti, si creeranno aziende nuove. Perché se arrivano al centro per l'impiego 10 persone che vogliono fare i camerieri, ma pizzerie o ristoranti che le vogliono assumere non ci sono, la pizzeria viene creata. E poi c'è sempre il problema dei finanziamenti. I finanziamenti si trovano, perché abbiamo tantissime possibilità con i finanziamenti europei che non vengono attualmente sfruttati. E poi abbiamo quegli strumenti che il Movimento 5 Stelle è riuscito a mettere in piedi, come ad esempio il microcredito. Ebbene, non sono tantissimi soldi, si parla di 25 o 35 mila euro. E quindi sono risorse finanziarie che potenzialmente possono essere utili ad aprire nuove attività. Tutti questi ingredienti verranno messi insieme all'interno dei centri per l'impiego rinnovati con le nostre proposte. E vedrete che il lavoro si riuscirà a creare attraverso i centri per l'impiego. Un'altra cosa fondamentale del reddito di cittadinanza, perché spesso si parla solo della misura economica, e va bene, è assolutamente importante la misura economica e l'integrazione del reddito, ma assolutamente importante è anche i controlli. Ebbene, i controlli verranno attuati in modo elettronico, diciamo. Il grosso verrà fatto in modo elettronico attraverso la struttura informativa centralizzata. Cioè tutte le banche dati di anagrafe finanziaria, anagrafe tributaria, anagrafe vera, quella del comune, ospedali, scuole, centri di formazione. Ebbene, si metteranno insieme per riuscire a condividere i dati, per capire cosa? Per capire se la persona che richiede il reddito effettivamente ne ha bisogno o no. Effettivamente una persona senza reddito. Questa è la cosa più importante. E poi misure molto, molto severe per colpire le persone che del reddito di cittadinanza non avranno bisogno e invece lo chiederanno. Purtroppo succederà e noi saremo veramente molto severi su questo. È qui con me Paolo Romano, che si occupa di trasporti. Ha seguito molto da vicino la questione dell'Alitalia e penso che abbia molte cose interessanti da dirvi in questa giornata dove si parla comunque di risorse pubbliche, risorse finanziarie che non vanno sprecate. Perché? Perché servono per fare il reddito di cittadinanza. Paolo. Grazie, grazie Daniele. Sì, sto guardando come accennavi già solo il caso Alitalia, spreco di risorse pubbliche. L'ultimo salvataggio, non quello di adesso, quello di qualche anno fa, 2008, ci è costato 7 miliardi di euro, quando abbiamo deciso di regalare Alitalia quelli che poi definimmo capitani coraggiosi che hanno portato l'azienda in rovina, come avete potuto vedere. Adesso c'è di nuovo lo stesso problema, Alitalia è stata affidata a DTAD, è stata affidata a persone come Montezemolo, hanno finito di spolparla, hanno tolto gli ultimi asset che ancora valevano qualcosa, gli slot di Londra e E-TROV, il database clienti della Mille Miglia e adesso la stanno lasciando lì. Morente ha chiesto di nuovo un prestito ponte, all'inizio si parlava di 300 milioni di euro, adesso sono già lievitati a 600 milioni di euro. Abbiamo fatto due conti, Alitalia perde circa 2 milioni di euro al giorno, quindi questi 600 milioni di prestito ponte servirebbero in pratica per riuscire a scavallare questo governo e lasciare la patata bollente al governo successivo, che speriamo possa essere un governo a 5 stelle. Il problema anche lì nell'Italia è che comunque ci lavorano tantissime famiglie, si parla di 12.500 persone e non si riuscirà a garantire gli stessi livelli occupazionali probabilmente, quindi anche lì sarebbe utile, anzi indispensabile, un reddito di cittadinanza proprio per queste famiglie che sennò si ritroverebbero senza un reddito da un momento all'altro. Siamo qua in marcia proprio anche per questo, anche per loro. Sembra un pin già visto come altre partecipate pubbliche che poi sono state private, ci abbiamo rimesso tantissimi soldi alla fine, sembra che dobbiamo ancora mettere soldi in società private che hanno veramente sono state spolpate. Sì, lascio la parola al collega di Commissione Trasporti, anche lui Michele Dell'Orco. Ci siamo, un momento di stop. Allora, salve a tutti, sono Michele Dell'Orco. Secondo me puoi andare... ok. Allora avete visto le novità degli ultimi momenti, c'è la questione Vitalizi che tiene banco. Prima gran battaglia sulla questione pensioni, che avevano giurato che non aspettavano fino a fine legislatura perché non gli interessava la pensione. Nella pratica invece a settembre matureranno la pensione e come prevedibile che fosse, probabilmente andranno fino a fine legislatura e si terranno la poltrona fino all'ultimo. E poi l'abbiamo visto sulla questione Vitalizi. Si poteva risparmiare milioni e milioni di euro eppure hanno fatto di tutto per non discuterla. Addirittura sono al governo e hanno la maggioranza, hanno i numeri, a partire dal Partito Democratico, da ben quattro anni. E nonostante questo, però in quattro anni l'hanno approvata. Adesso addirittura sembra che quasi non ci sia più il tempo di discutere questa proposta di legge. Allora cosa abbiamo fatto? Noi ogni tre mesi abbiamo in Parlamento una quota come Movimento 5 Stelle e come opposizione e ci possiamo giocare, portare in aula una nostra proposta di legge. Bene, questa volta, dato che loro non portavano quella di Richetti sui Vitalizi, abbiamo detto bene, usiamo la nostra quota, sfruttiamo i nostri numeri e la portiamo noi. E quindi a fine mese, finalmente, verrà discussa in aula alla Camera la proposta di legge del PD portata al Movimento 5 Stelle sui Vitalizi. E quindi vedremo cosa succederà. Io immagino che potrebbe essere approvata alla Camera questa proposta di legge per poi farla arenare al Senato, come il Partito Democratico, più o meno con l'80% delle leggi che non vuole in realtà far approvare in maniera definitiva. E poi un'altra questione calda è il tema l'Italia. Ormai siamo passati alla lotta direttamente in tribunale. come avete visto abbiamo depositato un esposto su uno dei nuovi commissari straordinari. L'Aghi. L'Aghi praticamente per legge non potrebbe fare il commissario straordinario di Alitalia perché è incompatibile. Nel 2013 il Parlamento aveva fatto, quindi loro, stiamo parlando della stessa legislatura, aveva legiferato su che criteri e che caratteristiche dovevano avere i commissari straordinari. Bene, questo Laghi non rispetta neanche le leggi che loro stessi hanno fatto, ma nonostante questo l'hanno messo lì. Perché questa persona era già prima un dirigente di Alitalia, era dentro una controllata di poste italiane, era dentro la società che detiene il 51% di Alitalia e una persona con queste caratteristiche non può fare il commissario straordinario. Oltre al paradosso, cioè politico, che chi ha mandato quasi in fallimento all'Italia e adesso dovrebbe essere il commissario che salverà l'Italia. Quindi è già un paradosso di per sé. E allora abbiamo presentato un esposto, l'abbiamo portato all'ANAC, abbiamo parlato, una delegazione del Movimento 5 Stelle con Cantone e adesso vedremo se ci saranno degli sviluppi e quindi se succederà qualcosa perché palesemente per legge quella persona non può stare lì. E quindi è veramente un paradosso che vengano messe persone che hanno distrutta l'Italia, dove sono stati buttati letteralmente nel cesso 7 miliardi e mezzo di miliardi di euro dei cittadini italiani. Noi non vogliamo più metterci un euro a fondo perduto, i cittadini italiani non devono metterci più nemmeno un euro a fondo perduto. Bisogna fare un piano industriale serio, provare a rilanciarlo. Se non si riesce a rilanciare, anche se secondo noi c'è la possibilità, perché siamo un paese turistico, siamo un paese con città come Roma, Firenze, Venezia, è impossibile che non si riesca a fare un piano industriale. Invece l'hanno fatta fallire il vecchio management, i vecchi dirigenti e anche per quello, già che c'eravamo, abbiamo fatto un esposto anche su di loro per cercare di fargli pagare finalmente qualcosa, a partire da Montezemolo. Pensate a Montezemolo, quando era arrivato in All'Italia, aveva detto entro il 2017, mentre in quel momento aveva mezzo milione di euro di perdite al giorno, io entro il 2017 porterò al bilancio zero, zero perdite. Invece siamo arrivati nel 2017 che l'Italia non perde mezzo milione, ma perde due milioni di euro al giorno, quindi praticamente il quadruplo. Queste persone devono andare a casa e devono anche pagare per tutto quello che hanno fatto, nonostante in All'Italia sia stati messi ben 7 miliardi e mezzo di soldi dei cittadini italiani. Paolo, scusa, se vuoi dire un attimo qualcosa? Racconta comunque. Che racconto? Allora, dove eri rimasto? Hai parlato? All'Italia. Sempre all'Italia. All'Italia, sì, abbiamo presentato un esposto venerdì, no, Crippa, lui sicuramente su Laghi è molto preparato perché è un commissario straordinario anche di Ilva. Noi abbiamo presentato un esposto per l'incompatibilità, c'è una legge sull'incompatibilità dei commissari, ci sono quattro punti, Laghi non ne rispetta almeno tre di questi punti, per cui ieri siamo andati dall'ANA che siamo stati ricevuti da Raffaele Cantone. Abbiamo lasciato questo esposto, adesso vedremo quali saranno gli sviluppi futuri. Lascio la parola a Davide che magari ci racconta il motivo di questa incompatibilità di Enrico Laghi a commissario straordinario di All'Italia. Buongiorno a tutti, la situazione è sempre la solita, quando ci sono delle crisi industriali la prima cosa che il governo fa è nominare dei commissari, peccato che nella nomina dei commissari siano sempre legate alle stesse logiche di spartizione, quindi viene nominato ad esempio in questo caso Enrico Laghi, come lo è stato anche commissario del caso Ilva, per una questione legata alle banche, visto che di fatto All'Italia è molto esposta dal punto di vista del debito verso la banca Unicredit, di cui Laghi è presidente del collegio sindacale. Ovviamente la questione poi non si ferma qua, perché come vi hanno già detto lui era presidente di Mitco, anzi è presidente di Mitco, che è una società che detiene il 51% all'Italia, quindi non è una persona che è stranea alla logica di gestione che ha mantenuto fino all'altro ieri all'Italia, è una persona che doveva sapere cosa stava succedendo e oggi immaginare che sia in mano a lui la questione rispetto alla responsabilità oggettiva, ovvero che sia lui ad intraprendere un'azione di responsabilità verso il vecchio management, ci fa un po' specie un po' sorridere che fondamentalmente dovrebbe occuparsi di se stesso. La politica poteva nominare sicuramente altre persone, ma ormai la logica è sempre la stessa. I commissari stanno diventando dei meccanismi con cui le crisi industriali vengono svendute e assistiamo anche nel caso, ad esempio, di Mercatone 1, che dopo che è stata in gestione da un commissario per anni, oggi il prezzo di cessione di vendita è calato enormemente rispetto alla prima offerta, allora qualcuno deve chiedersi, probabilmente la prima offerta è stata esagerata e oggi ci ritroviamo dopo un anno aver pagato un commissario, una gestione commissariale che è molto onerosa, perché sono tetti stipendiali molto alti su cui abbiamo cercato di intervenire, ma ovviamente la politica su questo ci guadagna, ci guadagna alla grande. Adesso io vi lancio un messaggio legato al fatto che siamo qua per questa marcia, legata al reddito di cittadinanza e legata a queste crisi occupazionali di cui vi stavo parlando. Perché? Perché oggi il reddito di cittadinanza diventa l'unico strumento per evitare quel ricatto occupazionale a cui tutti i lavoratori di tutte queste aziende in crisi oggi sono sottoposti e per far sì che ci venga ridata una dignità all'essere umano e sia possibile pianificare anche industrialmente un paese diverso, perché fino a quando noi invece continueremo a mantenere le stesse attività produttive con sussidi pubblici per mantenere lo stesso status, il nostro paese precipiterà nel degrado tecnologico e nell'impossibilità di essere un paese all'avanguardia anche dal punto di vista industriale. Questo è un punto fondamentale, lo stanno segnalando anche diversi grandi imprenditori, segnalando come davanti a un efficientamento tecnologico, all'innovazione tecnologica sia fondamentale riuscire a dare uno strumento di mantenimento del livello di dignità di una persona come il reddito di cittadinanza, perché di fatto è lo strumento che poi può permettere a una società di cambiare, di dedicarsi a servizi, di dedicarsi a ricerca e innovazione in maniera netta. Ma se non si passa ad un'unico strumento come il reddito di cittadinanza, tutto ciò non è possibile. Maglio, a te. Grazie Davide. Parliamo oggi, come sapete, del reddito di cittadinanza, ma si potrebbe allargare, come ha provato già a fare Davide, in effetti lo sguardo un pochettino più ampio, diciamo, un po' più anche europeo. Se ci pensate ci hanno sempre detto che l'Europa aveva un obiettivo comune, che era economico, che era finanziario, che era di pace, che era di stabilità. In effetti è così, se ci pensate. Nella sua fondazione è trattata di Schumann, è trattata di Roma qualche anno dopo e portavano al loro interno tutte queste innovazioni di cooperazione anche a questo. Poi ci siamo accorti però nel tempo che probabilmente tutto ciò che avevano indicato come soluzioni possibili, mi dicevano di guardarvi in camera sopra il camper, come soluzioni possibili, fossero in realtà arenate sul progetto, diciamo, che era diventato sostanzialmente un progetto finanziario di alleanza economica. Però se invece ci andiamo a guardare realmente quello che poi i vari paesi hanno fatto, scopriamo che ad esempio gran parte dei paesi europei hanno delle forme simili a reddito cittadinanza, hanno delle forme che permettono ai cittadini di non essere dimenticati. Io poco fa sentivo Beppe intervistato dai vari giornalisti e ha detto una cosa secondo me molto vera e molto giusta, cioè il problema è che noi dobbiamo occuparci di chi oggi risente un fantasma nella società. Tutti i paesi europei hanno un meccanismo di inclusione degli esclusi della società. In Italia invece abbiamo, secondo gli ultimi dati ISAT, 4 milioni di persone già sotto la soglia di povertà assoluta e altri 17 milioni a rischio di esclusione sociale. Di queste persone noi non ci occupiamo in nessuna forma. E' interessante, e qua mi aggancio a quello che diceva Davide, notare come da una parte non diamo un meccanismo di inclusione automatico, tipo il reddito di cittadinanza. Dall'altra parte però non creiamo neanche le condizioni per uscire dall'ombra e dalla posizione di fantasmi di cui parlavamo prima. Perché? Perché ad esempio gran parte dei paesi europei ha dei meccanismi per facilitare il lavoro e la nascita di start-up innovative. L'Italia nel 2013 è stato il paese che ha avuto il maggior numero di start-up innovative, nonostante il governo non ci abbia messo neanche un euro. Questo cosa significa? Significa che abbiamo un enorme background culturale e di innovazione che però deve andare da solo sulle sue gambe perché lo Stato non ci mette nulla. Quindi un'occasione sprecata ancora una volta. Altri paesi, ad esempio, hanno incubatori di impresa. Altri paesi danno la possibilità ai giovani con dei progetti, anche con dei finanziamenti, sia di rientro che a fondo perduto, di avviare una loro attività. Ed è per questo che noi il reddito di cittadinanza lo incastriamo in un meccanismo ben più ampio che prevede il reddito di cittadinanza con tutto quello che concerne poi l'impiego che viene creato, ma anche il microcredito che nel frattempo stiamo finanziando con i nostri stipendi. perché tu devi non solo assistere chi è in difficoltà, ma devi creare un tessuto sociale che permetta a tutti i cittadini di dare il meglio di sé. Questo è il progetto. Quindi quando facciamo una marcia come quella di oggi non è una marcia semplicemente per chiedere una riforma, è una marcia per chiedere l'ampliazione totale di una logica proprio sociale che è quella dell'inclusione a tutti gli effetti. Quindi dare possibilità da una parte e includere chi quella possibilità magari non l'ha mai avuta oppure l'ha persa per strada come tanti cinquantenni e sessantenni che oggi si trovano a non avere un lavoro e non poterlo neanche cercare perché di fatto tramite questo pacchetto completo di riforme negative che hanno fatto Jobs Act e Compagnia Bella, gli esclusi veri della società non sono più soltanto oggi disoccupati, ma anche quelli che non riescono a trovare uno spiraio né nella fascia dei giovani perché non c'è possibilità di fare impresa perché appena apri tirassano al 60% né sui over 50% perché l'imprenditore sa sostanzialmente che può schiavizzarli con le varie forme di contratto temporaneo. Io ho visto anche pubblicato recentemente ad esempio delle interviste sui lavoratori di Amazon e altre categorie di questo tipo dove nessun diritto viene dato e quindi neanche la capacità per quelli che sono rimasti fuori dal mercato del lavoro di colmare quel gap di pochi anni magari che hanno per arrivare finalmente a pensione. Quindi abbiamo una serie di categorie sociali che sono dei fantasmi che esagirino per la società. Giustamente Beppe prima ha intervistato e diceva una cosa verissima, quando poi ci stupiamo di qualcuno che a un certo punto perde la testa e compie qualche fesseria, diciamola così, non dobbiamo semplicemente accorgereci in quel momento ma dobbiamo capire che è un processo sociale che dura anni ed è un processo di esclusione che dobbiamo evitare. Riedere cittadinanza, investire sul microcredit e quindi sulle start-up innovative, dare possibilità di defiscalizzazione alle imprese e quindi di crearsi un futuro e puntare su progetti sociali di inclusione delle categorie che hanno difficoltà e ce ne sono una marea, quello è un percorso che porta la società a essere una società sana e migliore. Di questo si dovrebbe occupare il Governo e invece continua, continua ancora a parlare delle cazzate dei loro problemi interni, dei problemi del Partito Democratico che non trova la leadership perché, o meglio, non trova la legge elettorale adatta alla leadership del momento, che è un meccanismo da malati di mente e non si occupa di questo Paese che sta letteralmente morendo. Di questo si dovrebbero occupare, di questo ci occupiamo noi regolarmente e faremo, se riusciremo davvero ad andare al Governo, cose che ci auguriamo e in cui crediamo fortemente. Aiutateci e passo la parola a un nostro fantastico... Città che ci salutano dall'autostrada, a un nostro fantastico senatore Carlo Martelli. Grazie Malio, ciao a tutti. Siamo ancora qua per fare la marcia sul reddito di cittadinanza. Voi direte, c'è bisogno di fare questo? Sì, c'è bisogno, perché? Perché, giusto per fare un numero, 10 milioni di persone in Italia sono al di sotto della soglia di povertà relativa. 10 milioni non sono poche e quindi a queste persone bisogna dare una risposta. Qual è la risposta che dà il Governo? Il Governo che due terzi delle persone comunque sostengono? La risposta è, facciamo una legge elettorale per far sì che il Movimento 5 Stelle sia fuori dai giochi in una competizione politica. Questa è la risposta che vi danno. Un'altra risposta che vi danno è, non c'è bisogno del reddito di cittadinanza. Allora io dico che quando un provvedimento è così osteggiato, è così odiato, vuol dire che è un buon provvedimento, perché dà fastidio a un certo gruppo di persone, che sono tutte quelle persone che vogliono mantenere il potere sugli altri. Perché? Perché 10 milioni di persone attendono una risposta e la risposta non può essere che il reddito di cittadinanza non è una risposta. Perché la domanda mia è, allora quale dovrebbe essere la risposta? Trovatela questa risposta. Un'altra cosa che ci viene detto è che comunque noi vogliamo fare questo tipo di provvedimenti mettendo le mani nelle tasche degli italiani. C'è stato un articolo veramente infame da parte di un quotidiano nazionale in cui dice che il nostro reddito di cittadinanza è basato solamente tassando e stratassando. Io la risposta che do è. Ma quando nel 2014 Renzi ha fatto delle slide dicendo che c'erano tra i 20 e i 40 miliardi da tagliare nei ministeri, dove cazzo era questo giornale? Se ci sono 20 o 40 miliardi che si possono tagliare la mia risposta è bene. Allora 20 o 40 miliardi coprono due redditi di cittadinanza e ancora avanzano dei soldi. E questa è la prima risposta che do. Vogliamo dare altre risposte. La Corte dei Conti è andata a guardare e in Italia ci sono 382 miliardi di detrazioni, cioè di soldi che non entrano come tassazione perché sono soggetti a un qualche tipo di detassazione. Quindi a chi mi viene a dire che non ci sono soldi io rispondo sei in malafede, diciamo che tu non li vuoi perché vuoi tenere 10 milioni di persone in una situazione di povertà e quindi di ricatto continuo. Noi vogliamo uscire da questo ricatto continuo. Quindi se c'è bisogno non la facciamo Perugia, sì sì, ma la facciamo anche lungo tutta l'Italia, continuiamo a camminare finché qualcuno non si dirà ad ascoltare il volere dei cittadini e prima o poi ricordiamocelo che si andrà a votare. Per quanto la tireranno in lungo, al massimo a maggio 2018 si vota e in quel momento i nodi verranno al pettine. Si lo so, io che parlo di pettine può anche essere divertente. Però questi nodi arriveranno al pettine, prima o poi si voterà e prima o poi con una penna toglieremo di mezzo questa gente e metteremo della gente più sana che farà i nostri interessi e non i loro interessi. Passo la parola a chi vuole dire qualcosa? Mario Gianrusso, guardatelo qua. L'azzurro che continuerà a parlarvi di reddito di cittadinanza. Vai Mario. Il reddito di cittadinanza mi piace pensarlo come il reddito di libertà. Il reddito di libertà delle persone dal bisogno, dalla miseria, dalla sudditanza a questa classe politica corrotta e collusa con le mafie. Il motivo per cui noi siamo l'unico Stato europeo a non avere il reddito di cittadinanza è proprio questa classe politica corrotta. Io non penso che persone come la Merkel o i tedeschi facciano regali o buttano soldi. Eppure, eppure in Germania c'è il reddito di cittadinanza, come in Francia, come in Inghilterra, come in Spagna. Tutti i paesi che non buttano soldi, ma aiutano i propri cittadini a superare i momenti difficili. In Italia non c'è il reddito di cittadinanza perché i politici vogliono le persone disperate per averle sotto il loro controllo. Noi queste persone, questi cittadini li vogliamo liberare. Viva il Movimento 5 Stelle! Forza correddito di cittadinanza! Sì, poi ciao a tutti, io sono Giuseppe Brescia. Il collega Gianrusso sta proprio in commissione antimafia e questa è un'operazione che servirebbe proprio per combattere le mafie. Istituire il reddito di cittadinanza significherebbe togliere dalle mani della mafia tantissime persone, dal ricatto occupazionale, dare la possibilità di scegliere. Quella che è la propria vita, il proprio lavoro, avere la libertà e non essere schiavi di un salario. E questa è una battaglia che noi stiamo portando avanti sin dall'inizio e che soltanto con il Movimento 5 Stelle al governo potremo vedere realizzato il reddito di cittadinanza perché nonostante i governi si stiano susseguendo da tanti anni, anche i governi di sinistra che magari nel loro programma contengono il reddito di cittadinanza non lo istituiranno mai perché a loro conviene avere delle pensione ricattabili nell'elettorato. E quindi come tante altre cose soltanto noi che abbiamo le mani libere possiamo portare avanti questa battaglia. Questa è la seconda marcia che facciamo. Speriamo di non doverne farne una terza ma che l'anno prossimo saremo finalmente al governo e faremo una marcia per festeggiare l'istituzione del reddito di cittadinanza. Ciao a tutti, buona marcia a tutti. Amici, ciao a tutti, siamo arrivati a Ponte San Giovanni, abbiamo già oltrepassato Ponte San Giovanni, ci stiamo dirigendo, stiamo già con la famiglia, quindi questa volta abbiamo scelto questa soluzione. Il reddito di cittadinanza, stiamo marciando, pedalando, quello che volete. Comunque è un grande giorno di solidarietà, un grande giorno di testimonianza per un tema che per noi è stato sempre fondamentale, quello del reddito di cittadinanza. Qualche giorno fa l'Istat, l'Istituto di Statistica Nazionale, ha certificato il fatto che la crisi negli scorsi anni ha gravato molto di più sulle persone che erano già in condizioni di difficoltà. E l'Istat ci dice un altro dato fondamentale, e cioè che il Governo non ha fatto, ma che dovrebbe fare, invece, molto proprio per queste persone. Questo è quello che il Movimento 5 Stelle ha sempre detto. Il reddito di cittadinanza non è uno spot elettorale, non è niente di tutto questo, ma è una vera e propria manovra economica. Noi l'abbiamo sempre considerato in questo modo. Serve per restituire assolutamente dignità a tutti gli italiani per tutte quelle fasce che in questo momento sono in difficoltà, perché uno dei motti con i quali noi siamo stati letti in Parlamento nel 2013 è nessuno deve rimanere indietro. E oggi siamo qua proprio per dire anche questo. Nessuno deve rimanere indietro e adesso ci siamo fermati proprio per aspettare quelli che si stavano attardando. Ciao a tutti, buona marcia e reddito di cittadinanza a tutti. Ciao, eccoci felicissimi di essere qua per la seconda nostra marcia per il reddito. È un onore poter essere presente nonostante un pochino di asma dovuta alle piante, ma non fa niente, ce la facciamo. Dobbiamo riuscirci assolutamente perché quello che deve passare è un messaggio, è un messaggio che possiamo farcela, è un messaggio che vuole portare agli italiani la cosa più importante. Il Movimento 5 Stelle vuole che gli italiani non abbiano più paura, perché questa è la povertà. La povertà è avere paura, paura della vita, paura del domani, paura di non sapere come fare a mettere insieme il futuro nostro e dei nostri figli. Il reddito di cittadinanza questo fa, libera le persone dalla paura, le fa sentire bene, le fa sentire serene, le fa sentire protette e amate da uno Stato che in questo momento tutto fa meno che questo. Uno Stato che in questo momento ricatta la persona, ricatta il cittadino, che schiaccia quelli che sono i diritti, che schiaccia quelli che sono i redditi. Io sono sicura che l'uomo non è nato per essere schiacciato, per lavorare come uno schiavo. L'uomo è nato per vivere, per vivere e vivere in felicità. Il reddito di cittadinanza è questo, cercare di dare veramente, far la differenza, quello che poi alla fine c'è in tanti paesi, questi li hanno capito prima di noi. Solo che cosa succede in Italia? In Italia funziona bene quello che è un sistema di ricatto, spesso e volentieri pure un ricatto politico e peggio ancora mafioso. Io posso tenere sotto scacco un'intera società, se metto la società in ginocchio, se metto le persone in condizioni di non poter lavorare e di poter offrire loro per un pezzo di pane il minimo della sopravvivenza. Ecco, il reddito di cittadinanza fa questo, libera le persone. Noi siamo qui da anni ormai a lottare per questa nostra proposta. Ho il piacere di essere in commissione lavoro con l'annunzio a Catalfo, che è la mamma del reddito, Sergio Puglia e tutti i ragazzi della Camera che sono in commissione lavoro, ma tutti i ragazzi del portavoce, i ragazzi che ci aiutano da fuori e tutti noi cittadini. Ci crediamo veramente. Se riusciamo a fare questa cosa, noi faremo senz'altro un salto di qualità e libereremo questo Paese da una schiavitù che non meritiamo. Forza, facciamocela. Asma compresa. Arriveremo in fondo. Ciao, a presto. Ciao a tutti, sono Mario Pudu, sindaco di Assemini, comune in provincia di Cagliari, amministrato al Movimento 5 Stelle dal 2013. Il reddito di cittadinanza non è uno spot elettorale. Abbiamo fatto la marcia anche due anni fa, le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate. In Sardegna più della metà dei giovani è disoccupato, la povertà sta diventando d'attualità, anche in famiglie che 10, 15, 20 anni fa non lo erano. Chi ci sta governando sia a Roma che in Sardegna è lontano dalla realtà e se sei lontano dalla realtà non puoi capire in che situazioni ci siamo e non puoi capire l'esigenza del reddito di cittadinanza di cui non ci dovrebbe essere bisogno mai in questo periodo di gravissima crisi è strettamente necessario. Ve lo dice un sindaco che tutti i giorni incontra delle persone che l'indomani non sanno cosa mangiare. Un sindaco che incontra delle persone che bustano la propria porta con la speranza di avere per uno, due o tre mesi 100-200 euro. Non solo giovani ma anche uomini di 50-60 anni che ormai hanno perso tutto, anche la dignità. Noi la dobbiamo restituire. Nessuno deve rimanere indietro. Il reddito di cittadinanza è il primo passo affinché i nostri cittadini assumano la loro dignità. Grazie a tutti. Dicevano che non c'era nessuno. Pare che c'è qualcuno. Cominciato anche a piovere, invece la gente non se n'è andata. Vuol dire che il Movimento 5 Stelle è vivo come sempre, non cambia, non cambia, cambia anzi aumentando. Le persone aderiscono sempre di più, sono sempre di più. Abbiamo parlato con i cittadini, con gli attivisti, abbiamo capito che questa roba del reddito di cittadinanza è molto sentita. Non cambia nulla rispetto a questo punto. Noi la stiamo vedendo dall'Europa. Vediamo che gli altri Stati membri l'hanno messo su da diverso tempo. È una manovra che funziona. Non è soltanto una manovra per combattere la povertà, ma piuttosto proprio una manovra economica, che ha una ricaduta positiva rispetto alla sanitaria, una caduta positiva rispetto al contrasto alla corruzione, una caduta positiva rispetto al contrasto anche alla criminalità. Sono tutte cose fondamentali rispetto a un progetto generale che il Movimento 5 Stelle sta intraprendendo. Lo stiamo facendo solo noi, l'abbiamo detto solo noi, gli altri dicono tutt'altro e noi quindi continuiamo su questa strada. Che cosa ci dicono? Che non ci sono le coperture. Le coperture ci sono, ce ne sono diverse e man mano che siamo entrati nell'istituzione abbiamo capito sempre di più alcuni meccanismi, abbiamo capito che è possibile trovarne anche di più di risorse per sostenere questo reddito di cittadinanza. Tra l'altro noi ci avviciniamo sempre di più, ci stiamo avviando a un futuro che investe sempre di più in automazione e quindi il lavoro come lo conosciamo noi sta cambiando, sta cambiando sempre di più e quindi il reddito di cittadinanza in un certo senso diventa anche una necessità per sostenere il sistema. Non è soltanto una misura contro la povertà. Quindi continuiamo su questa strada, continuiamo sulla strada dell'aiuto di chi è rimasto indietro e cerchiamo di allineare la nostra posizione a quella degli altri Stati europei, dappertutto c'è, c'è nel mondo, funziona e dà la possibilità a tutti quanti i cittadini di essere parte di questa società e non esclusa. Ciao a tutti, ce la facciamo, ce la facciamo. Non è più possibile che uno Stato che si disinteressa dei cittadini e ve ne siete resi conti, ma non ci si può più disinteressare delle persone in difficoltà. Bisogna ridare dignità alle persone, dargli delle responsabilità di formazione, formarsi per avere un ventaglio di possibilità lavorative maggiore, rendersi disponibili nel sociale e soprattutto liberarsi dai ras politici locali che gestiscono questi mini posti di lavoro per poi chiedere il voto, scambio di voto, eccetera, eccetera. Ridiamo dignità ai cittadini, ne hanno bisogno, ne hanno bisogno soprattutto di un sostegno. L'Italia è in grossa, grossa difficoltà in mano a questa gente. Togliamo gli andati alle mani il prima possibile, andiamo al Governo e attuiamo il reddito di cittadinanza. Ciao a tutti. Siamo in diretta, vero Nick? Ciao ragazzi, sì, è una marcia, è dura il cammino, ma fa così bene ritrovarsi in mezzo alla comunità dei 5 Stelle. Voi lo sapete, la stiamo facendo per il reddito di cittadinanza. L'abbiamo fatta due anni fa e abbiamo avuto la stessa identica attesione di oggi. Questo perché? Perché il problema non è stato minimamente risolto e questo Governo, invece di preoccuparsi di quelli che sono le necessità dei cittadini, ci sta portando a spasso con una nuova legge elettorale incostituzionale, a mio avviso, perché, attento Nick, salvavo il nostro cameraman da un tonfo. D'altronde bisogna aiutarsi l'uno con l'altro, quindi Nick merita tutto l'aiuto possibile e immaginabile. Mi dicevo, una legge elettorale che la stiamo vedendo sotto gli occhi tutti i giorni, fatta con Verdini, fatta di nuovo per permettere le grandi alleanze. Siamo in diretta, siamo in diretta. Cioè, è un qualche complimento, d'altronde la donna fa anche piacere. Allora, vabbè, ragazzi, questo è lo spirito con il quale si fa questa marcia. Mi sto grezzando. È lo spirito, ci vogliamo bene, le persone ci vogliono bene perché quello che avevamo detto che avremmo fatto lo stiamo facendo, siamo rimasti assolutamente con i piedi per terra, nessuno di noi qui è differente da colui che ti cammina a fianco, dotiamo per le stesse identiche cose e speriamo veramente che chi ci raggiunge con questo video possa capire l'importanza e la voglia che ha questo movimento e questo popolo di cambiare il paese. Io sto guardando intorno se c'è un altro portavoce al quale passare il microfono per farvi raccontare l'esperienza di questa marcia. E ho beccato Enrico Caffelletti, vi lascio a lui e vi racconta la sua esperienza. Un abbraccio, ciao. Buongiorno a tutti. Una bellissima marcia, tantissima gente colorata, allegra come tutta la manifestazione del Movimento 5 Stelle. Questo però non sminuisce il motivo forte, il motivo per cui ci troviamo qui, ci troviamo qua in tanti, probabilmente decine di migliaia. è un motivo importante, è un motivo per cui la politica dovrebbe stare qui per questo, cioè a pensare a quelli che sono le necessità e i bisogni dei cittadini. Oggi nel nostro paese abbiamo un'emergenza, è un'emergenza che si chiama povertà e non abbiamo gli strumenti per poter affrontare questa emergenza. Può sembrare strano, la politica generalmente parla dei problemi della politica, parla dei problemi dei politici. Il Movimento 5 Stelle invece si occupa dei problemi dei cittadini, ma non di tutti i cittadini, ma soprattutto degli ultimi dei cittadini, perché per noi nessuno deve rimanere indietro. Per questo motivo siamo qui, siamo qui in tante, siamo qui orgogliosi di essere presenti. Ciao e buona manifestazione a tutti. Siamo qui oggi alla marcia del periodo di cittadinanza, perché è il primo elemento che dobbiamo attuare per togliere i cittadini e le persone in grave difficoltà alla mafia. Sono proprio i cittadini che hanno difficoltà a vivere, che non arrivano a fine mese, che sono preda di queste organizzazioni criminali. Garantigli una vita dignitosa, garantigli un futuro, significa togliere energie, togliere forze alle mafie in Italia. E sappiamo quante le mafie siano potenti nel nostro paese. Ecco, siamo qui anche per fare tante azioni che stiamo facendo, siamo qui proprio per sottolineare questo importante aspetto per tutta l'Italia. Ciao a tutti. Grazie. ...della marcia per il reddito di cittadinanza. Migliaia di persone insieme a noi siamo contenti che questo tema sia così sentito dalle persone. Deve entrare, come l'abbiamo fatto entrare, nell'agenda politica nazionale, perché dei parlamentari devono pensare soprattutto alle persone che in questo momento sono in difficoltà. Perché se un parlamentare non pensa alle persone che sono in difficoltà, è inutile che faccia il parlamentare. È da cinque anni quasi che portiamo avanti questa battaglia. Non lo vogliono approvare i partiti, allora lo approveremo noi o il prima possibile in questa legislatura o dal governo del paese a breve. Quindi mi raccomando, siamo uniti tutti i vicini per cercare di far sviluppare queste tematiche così importanti e fondamentali per la nostra Italia e il nostro paese. Grazie a tutti. Ciao. Grazie direttamente. Buongiorno a tutti. Siamo qua a Reddito di Cittadinanza in cammino verso Assisi. Ho incontrato poco fa i colleghi friulani del Movimento 5 Stelle che sono riusciti a renderlo realtà nel Friuli. Però il PD ha modificato Reddito di Cittadinanza in modo di non farlo funzionare. Quindi quello che noi proponiamo è di proporre Reddito di Cittadinanza così come lo facciamo noi. Come vedete molti cittadini comuni, normali, simpatizzanti, non simpatizzanti, per battere la povertà. Ultimi dati sono 8,3 milioni di cittadini italiani a rischio di povertà e 4,9 milioni in povertà assoluta. Questa è una manovra finanziaria e serve per risollevare il paese. Quindi vedete qua cittadini ancora che stanno arrivando. Fra poco sta arrivando anche Beppe che è qua, è qua vicino. Ecco, ecco, contornato da... Grazie. 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 senza reddito, diventano persone aggressive, diventano persone violente, spenderemo di più, una persona che non lavora, che non è espulsa dalla società, costa molto di più che non inserirla con un reddito, è il reddito che ti inserisce nella società e non il lavoro, il lavoro si sta trasformando, magari scomparirà, siamo una Repubblica fondata sul lavoro, ma se il lavoro non c'è, che Repubblica dobbiamo fare, che flussi di persone avremo fra qualche anno, di gente che non lavora, saranno aggressivi, andiamo verso qualcosa, lo sentiamo sulla pelle, lo sentite anche voi tutti, di cattiveria, di cambiamento, di invisibilità, la gente quando è invisibile, che non ha più niente da perdere, diventa violenta, dobbiamo evitare di arrivare a quel punto di non ritorno, questo è un tentativo, io faccio un appello a tutti i partiti, stateci vicino almeno in questa cosa qua, facciamola insieme, date un segnale anche voi, dovete pensare sempre che c'è un secondo fine, non c'è un secondo fine, c'è da aiutare 10 milioni di famiglie che non ce la fanno e noi magari non ci rendiamo conto, allora è la miseria, non è la povertà, la povertà è una questione esistenziale, è una questione di cultura, la cultura della povertà è una cultura vera che abbiamo perso, io abbiamo perso come intelligenza, oggi crediamo a qualsiasi cosa, siamo confusi da qualsiasi cosa, stiamo perdendo il fatto di intendere e di volere, cioè di scegliere e di capire, non riusciamo neanche a scegliere tra una cosa finta e una cosa non finta, è fake, la verità o non è verità, non sappiamo capire se uno è intelligente o stupido, non riusciamo più a capire, ci manca qualcosa che dobbiamo recuperare, assolutamente, questo è un gesto normale, niente di eclatante, in cambio di un percorso lavorativo si cercherà insieme alla persona si porta il reddito a quasi 800 Euro al mese, è il minimo che possiamo fare, è il minimo, è per gente che ha vissuto nel benessere totale come i parlamentari, si chiama di cittadinanza che per adesso sono chi ha la cittadinanza, quindi dobbiamo anche affrontare che avremo flussi di qualsiasi genere, il mondo si sta collegando, stanno mandando dirigibili per collegare il mondo a internet, tra un po' siamo continenti che vengono fuori dall'Artine, vengono fuori, la Groenlandia si stacca dalla Danimarca, nascono nuove terre grazie all'effetto Serra, il mondo, la geografia si sta spostando, crollano le nazioni, crollano gli stati, abbiamo le città-stato, abbiamo le città-stato, Hong Kong, New York, Londra, la Brexit, Londra, nella City hanno detto noi Brexit, ma noi faremo la Brexit in Londra, Londra, l'80% dei soldi sono a Londra, cosa ci interessa stare nella Gran Bretagna? l'80% delle università vengono qua, allora abbiamo città-stato, federalismo, prendere le risorse, una parte delle risorse, lasciarle nel luogo dove ci sono le risorse per mitigare le cose che arriveranno, c'è una mancanza di economia, di equa, chiamiamola equa, allora 10% delle tengono all'ovata, le solite piccole percentuali che non ci dicono più niente, per l'amor di Dio, ma la ridistribuzione è il problema di oggi, ridistribuire un pochino la ricchezza, un pochino, ma mi sembra anche normale, no? Un pochino. Allora il cittadino lo mettiamo al centro, questa è una cosa e poi le public company che vogliamo portare a noi è un'altra, mettere al centro che per qualsiasi lavoro pubblico saranno i cittadini a detenere la concessione, a detenere la proprietà, essere nel Consiglio di amministrazione e gestirsi le cose che compran. Questa gente ha dimostrato fino ad oggi di fare opere inutili, costose, piene di mafia e che si distruggono in poco tempo. Basta, faremo delle public company per qualsiasi cosa. Questo è il mio, 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 non seguite mai, non seguite. Sentiamo la mancanza di Gian Roberto, ve lo dico perché due anni fa eravamo qua con lui e abbiamo fatto il percorso insieme, lui aveva il prezzo, non ricordi, io cercavo, e ha riso, io mi ricordo che un giorno risa di gusto al settimo chilometro, Casaleggio fece risa e risa, sentiamo molto la sua mancanza, molto la sua mancanza. Però San Francesco ci procede, sono andato a vedere Francesco, la tomba di Francesco, bellissima, è una tomba sotto cristallo, sotto vuoto, vengono quelle ossicine sotto al sordo. Ma che ne pensa della polemica dei partiti? Bisogna attassare i robot, cioè per provare un'edificazione bisogna attassare le macchine. Sono teorie, nel discorso che scompariranno lavori, io ho sei figli, vedo già che non hanno le stesse volontà che avevo io e le stesse aspirazioni, io volevo portarmi la casa, la macchina, dalla macchina, la casa, i soldi, le ragazze, questi ragazzi hanno altre priorità, hanno il car sharing, condividono una macchina, condividono un appartamento, non si sposano, viaggiano, condividono l'esperienza, stiamo creando un mondo di esperienza perché è la tua vita poi, l'esperienza è il valore immenso che hai, è l'unico valore che non ti porta via nessuno, che hanno capito, sono sempre a condividere film, musica, fatti, è interessante. Grazie a tutti. Ma dobbiamo essere conviviali oggi, questi nomi non c'entrano, sono insinuati da pseudogiornalisti che ti buttano quei nomi lì, è una marcia per l'intelligenza. O diventiamo intelligenti e anche economicamente gestiamo queste cose, o se no andremo a finire male. Tanta monnezza che ce ne sarà sempre, ma bisogna saper orientarsi. La banana è magica, non devi lavarla, la sbucci e hai da mangiare subito così, non ci vuole nessun attrezzo. La banana è magica, no 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 no. Te l'ho lavate? Lo scontrino me lo fai? Adesso te lo fai. Ci stanno riprendendo. Fammi uno scontrino per favore. Sì da, lo scontrino. Come lo scontrino? Vada c'è le maglie gialle che controllano eh. Lo scontrino, accendi la gialla da sotto. Fai quello lì, fai quello lì, dai. Allora, vabbè ora, mettimelo lì, ecco bene, lascia melo lì. L'uno, due. Di qua, reparto, mamma mia. Come nel film di cosa? Nel film quando chiede lo scontrino che si ferma tutto il paese. Ti ricordi il film? Di cosa? Come si chiama? Accetto da qualunque. Grazie ragazzi, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao. Chi è che vuole una buccia di banana mangiata da me? Non si sa mai, può essere quotata un giorno. Non ho capito, ho dato un fazzoletto con cui mi sono asciugato e l'avete buttato via. Non capite il valore in verde. C'è una signora che ha detto le mutande. Invezione, invezione. Lavoro, il cuore. Grande Peppe. Lavoro, il cuore. Lavoro, il cuore. Vai, 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 facciamo la foto. Votalo qua, votalo qua. Votalo qua, votalo qui in passi. Votalo qua. Bruno. Ciao, ciao. Si è fermato un attimo. Le palle, non un braccio. Puoi buttarmi via. Siamo di giro. Sì, grazie. Siamo di giro. Siete sulla spesa. Vieni, state attenti che non vi venga un impatto. Sì, non lo facciamo. No, no, no. Grazie. Votalo qua. Votalo qua. Votalo qua. Votalo qua. Votalo qua. Votalo qua. Vai, vai, vai. Maledetti. Votalo qua. Grazie. 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 Ciao. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.